Al via il programma di quantitative easing della Banca Centrale Europea. La BCE comincerà a comprare titoli di Stato sul mercato secondario a partire dal prossimo lunedì, ma Grecia e Cipro, in quanto ancora sotto programma di assistenza, rimarranno fuori dall'intervento. Lo ha annunciato da Nicosia il governatore Mario Draghi, spiegando che gli acquisti mensili ammonteranno a 60 miliardi e continueranno fino al settembre 2016. La Grecia resterà esclusa da questa opportunità sia perché il paese è ancora nel periodo di revisione del programma di assistenza appena rinnovato dall'Eurogruppo, sia perché l'Istituto di Francoforte non può possedere più del 33% dei titoli di un paese, limite già raggiunto nello Stato ellenico. Per Draghi comunque, l'ultima cosa che si può dire è che la BCE non sostenga la Grecia. Ad Atene, ha ricordato, sono stati prestati già più di 100 miliardi di euro, una cifra che rappresenta il 68% del PIB del paese, la più alta nella zona euro, cifra che farebbe della BCE la vera banca centrale greca.